Non risponde al telefono ai vicini e familiari, era morte in casa da almeno 36 ore, protagonista della vicenda Lucia Sannoner, anziana di 94 anni, che viveva a Campo di Giove, trovata senza vita nel pomeriggio di ieri, nella sua abitazione del piccolo centro Perigno. La donna, che viveva sola in casa, aveva parenti nella capitale, non si era vista nel quartiere degli ultimi giorni, né aveva dato notizie di sé. Per questo uno dei vicini di casa, dove aver scavalcato la recinzione e aver bussato senza esito in casa della 94 anni e allertato i numeri di emergenza sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona per l'apertura della porta, gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'anziana è stata rinvenuta a cadavere nel divano dell'abitazione, dove è stata colta da un malore. Il decesso è quindi riconducibile a cause naturali, tant'è che il magistrato di turno della procura della Repubblica di Sulmona ha rilasciato il nulla a ost e familiari per la celebrazione delle sequie. Per gli accertamenti di rito sono intervenuti i carabinieri della stazione di Campo di Giove, un altro dramma della solitudine.